Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaask Eh la pate, ma è questa tua pisse? Portatemi la pisse! Io già seguivo video questo project Alfa? Di te non porti la ponte qui non si raviate? Dominane Paldi E' un'altra cosa. Mi ricordo che ti senti un pochino di pallone. Ma ogni ora mi hai seguito. Vabbè, ma devi fare la scossa. C'è un pochino. 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 E' un pochino. Mi hai fatto la mezza. Per mezza lui.